Non mi date una mano a fermare queste due qui, ma non hai capito che ci stavano truffando, queste sono delinquenti. Hai visto? Sembrava tardi, ma si può intervenire in tempo e questo lo dico anche a voi, attenzione, non lasciate mai le persone di una certa età a fare questa operazione da soli, il banco, matla a banca, alla posta, perché dovunque ci sono soldi si diventa vulnerabili, si diventa delle prede. Quindi, come dico sempre io, se una parola è troppa e due sono poche, quali sono le parole giuste? Tre. Chiama la polizia. Brevo.